Prosegue il nostro avvicinamento alla nuova stagione, abbiamo un nuovo protagonista del Dertona Calcio, ringraziamo Filippo Gilli. Ciao Filippo e benvenuto a Tortona. Buonasera. Buonasera a Dome e buonasera a te. Allora Filippo, ti abbiamo visto quest'estate dai tuoi amici del Borgo, io pensavo che andassi a Borgo Torinese, invece siamo molto contenti che un difensore giovane ma esperto come te abbia sposato la causa Dertona, evidentemente il progetto ti ha convinto Filippo. Sì, ci sono state delle vicissitudini poi in quel caso e poi nel frattempo è nata questa opportunità e quindi poi ho scelto Dertona. Allora Filippo sei reduce da una stagione non fortunata con Roberto Cretaz al Borgosesia, in passato è andata molto meglio ma a differenza di tanti nuovi giocatori del Dertona sei uno di quelli che conosce bene questo campionato. Sì, questo campionato ormai sono 3-4 anni che lo faccio quindi lo conosco abbastanza bene, ho fatto solo questo girone, ho incontrato il Dertona più volte e sono carico per questa nuova stagione. Hai iniziato la tua carriera da professionista giocando nel Toro, poi anche in una squadra qui vicino a noi, insomma le tue prime impressioni secondo te questo Dertona può essere competitivo? Sì, sicuramente, siamo una squadra giovane, abbiamo iniziato a lavorare fin dai primi giorni in modo comunque duro, come è giusto che sia e secondo me possiamo divertirci. Gianni? Ti piace come la città ti si è ambientato, hai già conosciuto qualcuno? Sì, sì, con i compagni adesso stiamo iniziando a girare un po' la città anche se siamo qua da pochi giorni, da due o tre giorni, piano piano poi entreremo nel vivo. Si girate con la maglia del Dertona, ha fatto una gran bella cosa, così vi riconoscono e così ci sono appenzionati e la domenica vengono allo staglio. Allora, faremo così. Ultima domanda, un pochino più tecnica Filippo, in che ruolo ti piace giocare? Ti ho conosciuto come centrale, puoi giocare anche a destra? Sì, sì, allora io poi in tutte le giovanili ho fatto il terzino destro, poi mano a mano che la carriera andava avanti mi sono spostato anche centrale, infatti ho una certa dottilità diciamo, se vogliamo dire così, facendosi dal centrale a tre, il braccetto, il terzino, il quinto, diciamo che ho fatto un po' tutti i ruoli. Basta giocare? Sì, basta divertirsi. Grazie in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Grazie.